I carabinieri della stazione Palermo Centro hanno tratto in arresto per estorsione due giovani di 17 e 30 anni di origine egiziana. Gli uomini dell'arma, in seguito alla denuncia di una turista rumena, hanno avviato un'attività d'indagine che ha consentito di delineare i contorni del reato e arrestare i due indagati. Durante una serata in un locale nel quartiere Vucciria, la ragazza aveva subito il furto del proprio telefono cellulare. La mattina seguente la giovane ha chiamato da un altro numero il suo stesso telefono per cercare di recuperarlo. A quel punto un ignoto interlocutore, con accento marcatamente straniero, le diceva che per riavere il suo telefono avrebbe dovuto pagare la somma di 100 euro. La vittima ha sporto immediatamente denuncia presso la caserma Carini. I militari, profondi conoscitori del territorio e delle dinamiche criminali della zona, si sono prontamente attivati e hanno arrestato in flagranza di reato i due giovani pronti per lo scambio dei soldi e la consegna del telefono. Gli arresti sono stati convalidati. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha disposto per il 17enne la misura cautelare del collocamento in una comunità. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto per il trentenne l'obbligo di dimora nel comune palermitano, l'obbligo di presentazione per tre volte settimanali alla polizia giudiziaria e l'obbligo di permanenza notturna in casa. Il telefono cellulare e la somma di denaro sono stati ovviamente restituiti alla malcapitata.